musica 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 ve lo mostro così tutto zozzo con i segni di un utilizzo intenso perché lui è con me da circa tre mesi ci ho lavorato tantissimo ho lavorato alle campagne di pre lancio di show me ho lavorato alla campagna di lancio di show me con alcuni contenuti che mi sono stati commissionati e ci ho lavorato tantissimo anche a livello personale quindi l'ho usato sia lato video che lato foto veramente veramente in maniera intensa e sì secondo me lui segnò un piccolo punto di svolta nel mondo della smartphone photography è una piccola rivoluzione ma solo sotto certi aspetti e se volete capire e scoprire meglio il perché rimanete collegati fino alla fine di del video ma iniziamo dai pro dalle cose meravigliose che questo telefono ha da offrire piccola analisi di base forse la parte più noiosa lui ha tre sensori tre ottiche differenti abbiamo il sony imx 989 sensore da un pollice 50 megapixel f1.9 poi abbiamo due sensori jn1 da circa mezzo pollice f2.0 per il teleobiettivo ed f2.2 per quanto riguarda l'ultra grandangolare voglio iniziare subito con la cosa con quel elemento che mi ha fatto innamorare di questo telefono e quel qualcosa che ho trovato finalmente aggiungo solo e soltanto qui teleobiettivo degno di nota teleobiettivo che non viene di fatto assemblato e creato praticamente da laica ma viene disegnato e progettato da laica oltre che ingegnerizzato e poi appunto lavorato in termini software insieme a Xiaomi ovviamente ed è qui che ci sta tutta la differenza del mondo ma partiamo dall'inizio innanzitutto la scelta della focale 75 mm una scelta perfetta perfetta per andare ad avere una versatilità giusta in un comparto camera composto da tre lenti ovvero se io dovessi fare un'uscita con la mia camera e dovessi scegliere soltanto tra tre ottiche probabilmente questi sarebbero per quei tagli che porterei con me diciamocelo dopo tutti questi anni in cui ormai siamo abituati a vedere i teleobiettivi in ogni salsa sugli smartphone una 2x un 50 mm è troppo poco perché comunque ancora non abbiamo la tecnologia per un sensore degno di nota su queste lunghezze focali così lunghe e il 50 mm non ci dà quello sprint in più se andiamo sulle ottiche 5x e 10x su questi 130 mm su queste focali iperspinte troviamo lenti molto 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 poco luminose molto poco utilizzabili dove il software la fa troppo da padrona e dove la presenza di luce deve essere veramente gigantesca per far sì di averne un utilizzo forse sensato perché secondo me ad esempio le 10x proprio non hanno senso sugli smartphone per ora 65 mm è quindi una focale che adoro ma questa lente ha qualcosa in più perché non è la prima 3x che vediamo su uno smartphone quindi perché me ne sono innamorato tecnologie innanzitutto ha una tecnologia che hanno definito flottante ovvero con queste lenti che all'interno hanno la capacità di muoversi probabilmente per spostare appunto il piano di fuoco divertentissimo perché riusciamo a mettere a fuoco soggetti vicini fino a 10 cm e questo ci consente di avere un livello di sfocato naturale molto 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 elevato rimaniamo sulla parte legata alla tecnologia parliamo di stabilizzazione stabilizzazione fantastica stabilizzazione spaventosa e me ne sono reso conto sapete quando non tanto nei video nei video nei video nei video poi ne parliamo ma a livello fotografico mi sono accorto che questo signorino qui scatta delle foto sul 75 mm magari in modalità ritratto dove appunto siamo totalmente affidati all'intelligenza artificiale anche a tempi di un trentesimo e la foto viene non mossa e parliamo magari di ritratti ravvicinati quindi di soggetti di situazioni particolarmente difficili guardate questa foto mi trovavo dentro la sagrada famiglia poca luce ambiente chiuso risultato è perfetto nitido immagine ferma congelata e io quando ho visto la filigrana sotto i metadati che segnavano quel tempo sono rimasto di strucco questo perché scattare a un trentesimo con una focale di 75 mm non è una cosa che si fa di solito o meglio sì tutto è relegato anche alla capacità del fotografo alla capacità dell'operatore tutto si può fare ma non è proprio una cosa normale riprendendo ancora come esempio questa foto questo in cosa si traduce nel perché questa lente è espressamente dedicata ai ritratti ovvero Leica e Xiaomi a livello software hanno fatto un lavorone di ottimizzazione sulla modalità ritratto sulla gestione software dove io non so come hanno fatto a trovare la formula magica ovviamente ma vi posso assicurare che l'hanno trovata perché io ho fatto una miriade di ritratti con lui ritratti rubati ritratti organizzati ritratti con poca luce ritratti con tanta luce eccetera 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 e non ne ha sbagliato uno non ne ha sbagliato uno uno e vi parlo della modalità ritratto una modalità che odio una modalità che per come scatto io che nella street non funziona una modalità che sbaglia sempre per quel che mi riguarda quasi sempre qui per la prima volta io mi sono ritrovato a adorare la modalità ritratto e ad utilizzarla per un lavoro uno per l'affidabilità ed è quello di cui ho parlato due per i risultati perché sì scatto affidabile esce uno scatto tecnicamente giusto non esce mosso non esce sfocato e ci siamo ma la qualità del risultato poi in una modalità dove è il software a decidere per me com'è io vi dico solo che con questa lente in modalità pro possiamo scattare con un classico raw 10 bit col profilo calibrato da adobe labs e abbiamo incredibili file raw di cui vi parlo più tardi che show me per quel che mi riguarda ha sempre tirato fuori di cui purtroppo non si parla mai abbastanza ma anche in questa beniamata modalità ritratto il profilo colore la scelta dei toni la riproduzione degli incarnati la scelta dell'esposizione tutto quanto ha sempre funzionato come funziona la modalità ritratto molto semplice c'è la classica modalità ritratto normale e poi lui ci dà la possibilità di scegliere tra quattro chiamiamoli profili di modalità ritratto che vanno a simulare quattro differenti ottiche laica è quindi corretto pensare che questi quattro profili siano stati creati e calibrati proprio da laica sarò spietato su questi quattro profili per me quello che si salva è uno abbiamo un 35 mm in bianco e nero palese tributo al mondo di laica e al mondo da cui laica arriva e per cui è diventata celebre non serve a che vi dica altro un 50 mm un 75 mm e un 90 mm ognuno con caratteristiche differenti il 75 mm si chiama proprio portrait proprio ritratto ed è l'unico valido e vi spiego perché uno perché è la reale lente che abbiamo sul telefono a livello hardware quindi nessun fattore di crop sono riusciti a far sì che il software elabori un effetto bokeh un effetto sfocato sulle alte luci o sulle luci diffuse o sulle texture sulle trame vi faccio vedere questi scatti nel bosco particolare con un qualcosa di vintage con una calibrazione dei colori dei dei toni degli incarnati delle sfumature non voglio dire perfetti ma super credibili super utilizzabili chiaramente nel momento in cui selezioniamo uno dei profili di laica e questo in realtà è un lato positivo non negativo rispetto alla normale modalità ritratto noi non potremo andare a regolare l'intensità dello sfocato in post produzione in galleria ed è un grande segno di sicurezza e di imposizione di un grande brand come laica che vi dice no questa è la simulazione della mia lente non potete firmare questa fotografia con uno sfocato da voi deciso l'ho deciso io qual è la resa finale che deve avere questa tipologia di utilizzo software e non gli si può dare torto dal momento che funziona praticamente sempre ovviamente bisogna sempre avere un minimo di accortezza nell'utilizzarlo questa è una modalità che bisogna utilizzare per i ritratti non per altro qualsiasi altra tipologia di utilizzo porterà ad un cattivo funzionamento oppure ad una resa magari il funzionamento ce l'abbiamo anche lo scontornamento avviene ma la resa sarà poco credibile artificiale sbagliata di base quindi con un po' di consapevolezza questo 75 mm unito a questa modalità ritratto sono un punto di svolta nella smartphone photography io non ho mai visto nulla del genere sul telefono e sì l'ho provato vivo x 90 pro e Zeiss ha fatto un lavoro a livello software praticamente identico e devo dire che non funziona male ma non mi aveva per niente restituito questa sensazione la sensazione di poterlo utilizzare per lavorare con questa lente vi divertirete un sacco andiamo sul sensore principale parliamo di un 23 mm sensore più grande disponibile sul mercato per quanto riguarda gli smartphone perché il sensore più grande fa tutta la differenza del mondo sì anche a questi livelli dove passiamo da mezzo pollice un ventesimo di pollice a un pollice intero il diframa di questa lente f1.9 non è tra i più luminosi del mercato ecco qui che l'importanza del sensore viene a galla perché la grandezza del sensore influisce sulla sensibilità di quest'ultimo quindi un sensore più grande a parità di megapixel avrà dei singoli pixel più grandi ovviamente perché sono distribuiti su una superficie più grande il pixel più grande è più sensibile alla luce e questo è un vantaggio secondo vantaggio rimaniamo sulla grandezza dei pixel una superficie più grande su cui si spalmano questi 50 megapixel chiaramente fa sì che la riproduzione della nostra immagine la formazione digitale della nostra immagine sia migliore come dire spesso ci si confonde tra risoluzione definizione si fa un po' di casino la risoluzione i 50 megapixel determinano la grandezza della nostra immagine quanto è grande ma questo non basta anzi influisce vi dirò in minima parte quando si lavora specialmente su sensori così piccoli la grandezza del sensore influisce in maniera molto molto maggiore rispetto alla becera risoluzione ai beceri 50 megapixel 200 megapixel che sia che ci consente di avere un'immagine più pulita semplicemente perché si sviluppa su una superficie più grande contenere un piccolo angolo della nostra immagine l'immagine risulterà più impastata più rumorosa è un po' come poter disegnare un disegno iperdefinito su una superficie microscopica non ce la si fa prendete un'immagine e scaricate l'immagine risulterà più impastata più rumorosa è un po' come poter disegnare un disegno iperdefinito su una superficie microscopica non ce la si fa quindi una superficie più grande e la saggia scelta di utilizzare 50 megapixel qui non 200 fanno sì che il livello delle immagini che otteniamo con questa lente 1x23 mm sia pazzesco per quel che mi riguarda e unito a questo abbiamo un lavorone di Leica che qui più che mai ha lavorato con dei veri e propri profili colore non dei filtri ma sono proprio delle scelte di sviluppo partendo dal file RAW per arrivare al JPEG sono due profili colore Leica autentico e Leica vibrante Leica autentico è quello di cui vi innamorerete perché è quello che cerca in qualche modo di distaccarsi dalla classica resa digitale non saprei come altro dirlo ancora di più dalla classica resa digitale degli smartphone quindi con colori più morbidi ombre un po' più attenuate incarnati un po' più piacevoli che restituiscono nel complesso un'immagine meno invasiva meno rovinata meno pompata non so come farvelo capire al meglio e ribadisco non si tratta di un filtro quando andiamo a cambiare il profilo colore nella fotocamera dello smartphone noterete infatti che lui fa proprio un ricaricamento della fotocamera mentre quando andiamo ad applicare i normali filtri anche qui troviamo dei filtri pensati da Leica questo non avviene è semplicemente il filtro la color che si va ad applicare sul JPEG sul file sul risultato finale che è già dato dalla lavorazione del profilo trovo un grande senso nella modalità che nel modo degli smartphone ha più senso in assoluto ovvero il punto e scatta in automatico il punto e scatta veloce tutto grazie a questo profilo colore così piacevole così azzeccato e anche ad un software Xiaomi che è migliorato tantissimo quindi la lettura dell'immagine di questo software davanti a un certo scenario quindi la lettura dell'esposizione è incredibilmente migliore la velocità dello shutter la risposta dello shutter è pazzesca non sono mai riuscito a rimanere così soddisfatto dagli inevitabili punta e scatta che capitano nel quotidiano o capitano durante determinati lavori come con questo come se non bastasse poi la modalità pro è la solita modalità pro di Xiaomi ottima e ricollegandomi una cosa che vi ho già detto qualche minuto fa abbiamo un RAW 10 bit calibrato da Adobe Labs si riesce a lavorare con una piacevolezza con una tranquillità incredibile non solo nel recupero dei toni nel recupero appunto delle alte luci delle basse luci avevo mostrato in un video qualche tempo fa con i miei scatti del 12S Ultra a Parigi cosa significa scattare il RAW con uno smartphone del genere ve lo faccio rivedere anche qui ma anche sulla lavorazione dei colori il concetto è questo ogni volta che andiamo a lavorare le tonalità dei colori delle nostre immagini chiaramente più li lavoriamo più rischiamo di andare piano piano a rovinare il nostro file non solo in base alla profondità del colore che il RAW riesce a immagazzinare nei propri dati una lavorazione potrebbe funzionare piuttosto che no in termini di sfumature in termini di ricerca di uno specifico di una specifica tonalità di una specifica luminanza di quel colore eccetera eccetera i file si inizia a danneggiare qui riesco a lavorare liberamente nei limiti di un sensore di questo tipo nei limiti di una gamma dinamica di questo tipo ma lavoro con una tranquillità che con gli altri smartphone non ho quindi per riassumere queste due prime ottiche quello che mi viene da dire è che sia in modalità automatica sia che voi siate utenti casual utenti di tutti i giorni utenti che vogliono scattare con il proprio smartphone punto sia per il professionista che cerca qualcosa in più qui con queste due ottiche siamo ai vertici assoluti e invece cosa non mi ha convinto e principalmente ho trovato due note dolenti la prima non ve ne ho parlato quindi l'avrete capito è la super grande angolare la 14 mm si la 14 mm è un'ottica che secondo me ancora non brilla per quel che mi riguarda su nessuno smartphone a grossi limiti è una focale difficile è un grandangolo di questo tipo va utilizzata veramente con consapevolezza solo in certi contesti ma qui meno che in altri top di gamma forse è utilizzabile non dico che sia pessima assolutamente no possiamo sempre godere delle funzioni software tra l'altro di Leica quindi di un profilo colore un po' più ricercato dell'ottima modalità pro di Xiaomi è comunque rapportata agli altri top di gamma secondo me accettabile ma devo dire che se potevo evitare di utilizzarla lo evitavo questo un po' per mia natura e mia scelta un po' perché effettivamente ho subito notato anche dai primi test che non ha quel qualcosa in più che per un motivo o per un altro hanno le altre due camere l'altra notatolente è un qualcosa che secondo me è un errore sciocco a livello software magari in realtà c'è un motivo super logico super banale e mi illuminerete su questo ma ho notato che modalità foto modalità automatica punta e scatta non modalità pro il sensore principale quando scattiamo con la 1x in realtà al di là cioè senza stabilizzazioni particolari attive eccetera eccetera è leggermente croppato quindi non viene sfruttata l'intera superficie del sensore tant'è vero che se andiamo ad allargare leggermente l'immagine e arriviamo a 0,9x notiamo che non c'è lo scattino sulla supergrandangolare ma che stiamo continuando a lavorare sul sensore principale Xiaomi ha la maggior parte dei suoi utenti perché questa è la modalità in cui scatta la maggior parte degli utenti offre il proprio sensore principale con un leggero fattore di crop perché boh non lo so infatti quando poi passiamo in modalità pro notiamo subito che l'inquadratura è leggermente più larga perché stiamo utilizzando tutta la superficie possibile del sensore io questa roba non la concepisco da che io scatto quasi solamente in modalità pro piuttosto se devo scattare in automatico in punta e scatta vado in modalità pro e metto tutti i parametri su automatico e vi consiglio di farlo perché comunque vi portate a casa il file raw comunque potete fare un punta e scatta veloce il profilo colore e anche in modalità pro impostare il Leica autentico o il Leica vibrante di cui vi parlavo e in più potrete fare voi una piccola regolazione quindi per lavori dove vi servono magari può capitare jpeg veloci pronti il più possibile io comunque consiglio di scattare in modalità pro con tutto impostato su automatico piuttosto che scattare direttamente in modalità automatica queste sono un po' le due note dolenti che mi sento di appuntare per quanto riguarda questo reparto camere lato foto ma andiamo al lato video ho utilizzato tantissimo anche per girare video Xiaomi mi ha commissionato dei vlog da girare a Francoforte a Barcellona a sto giro non l'ho utilizzato sul set come è capitato per gli altri modelli quindi non vi so dire come si comporta in situazioni di luce controllata non vi so dire come si comporta con Filmic Pro ma posso ben immaginare che tutto funzioni alla grande visto che funzionava alla grande già con gli altri modelli ma il succo quello che alla gente non va giù quando si parla di video e di Xiaomi è che non funziona benissimo in modalità automatica nelle modalità per cui è più pensato non in un forzato set cinematografico anche qui parto dalle cose positive la primissima è una modalità log migliorata più affidabile più stabile finalmente cavolo perché Xiaomi è stata una delle prime dei primi brand a introdurre la modalità log per chi non lo sapesse è una simulazione di un vero log ovvero di un file meno lavorato possibile con più informazioni possibili in questo caso semplicemente iper desaturato iper decontrastato in modo da poter catturare più dettagli possibili e poter essere più lavorabile possibile in post produzione vi assicuro che fa tutta la differenza del mondo ancor di più e mi collego a una nota dolente lo fa su uno show la gestione del profilo colore in modalità automatica o anche modalità pro non log non è proprio il massimo innanzitutto è un po' disordinata ovvero il profilo colore del 4k 30 fps è differente neanche poco ad esempio dal profilo colore dell'8k 24 fps e a sua volta il modo in cui lavora il sensore il livello di rumore eccetera eccetera è molto diverso tra il 4k 30 fps normale e il 4k 30 fps log ma in una maniera davvero davvero pesante nell'esperienziale questa cosa ve l'ho fatta vedere adesso ve la ripropongo ho notato subito che il 4k 30 fps è abbastanza disastrato un'immagine iper contrastata un'immagine iper contrastata troppo satura con delle ombre molto molto chiuse e tanto rumore video ho notato anche con buona luce diciamo ho notato troppo rumore video poi mi è balzato in mente di voler girare in 8k per sfruttare appieno questa risoluzione super esagerata siamo d'accordo ma proviamoci e noto che in 8k non cambia solo la resa in termini di risoluzione andando a croppare ma anche osservando l'immagine mi accorgo che il profilo colore è totalmente diverso l'immagine è molto più piacevole meno contrastata ombre meno chiuse immagine poi più pulita sia in termini di definizione ma anche in termini di rumore anche nelle zone di luce ragazzi quindi proprio pasta non so pasta del sensore mi viene a dire anche se il sensore è lo stesso cioè Xiaomi fa un po' questo pastrocchio tra le varie modalità a 60 fps cambia ancora in modalità log vi ripeto cambia ancora modalità log che torno al grande vantaggio adesso è stabile funziona bene e sfrutta il sensore in una maniera secondo me piacevole non vi sto a dare i dati tecnici si gira in 8k a 24 fps 4k a 60 fps rallenti fino a 120 240 tutte queste robe qui più da recensione classica le trovate un po' ovunque vi riporto questa tipologia di esperienza legata ad un lavoro che ho dovuto affrontare con lui un secondo vantaggio che mi sento di dirvi insieme alla modalità log è quella della stabilizzazione invece stabilizzazione pazzesca stabilizzazione che funziona benissimo sia sul sensore principale che sulla mia favorita questa 3.2x la 75 mm ci ho lavorato benissimo sia col gimbal che a mano libera la stabilizzazione digitale l'ho sempre tenuta disattivata affidandomi a quella hardware presente sulle ottiche in questo caso e devo promuovere una modalità video di questo smartphone promuovo quindi la modalità 8k a 24 fps per il profilo colore più piacevole ma con il vantaggio svantaggio di girare in 8k quindi un file più pesante meno gestibile magari da alcuni pc e la modalità dolby vision quindi 4k 30 fps e 60 fps sul sensore principale perché funziona solo sul sensore principale purtroppo io ho scelto un approccio differente per il mio lavoro opposto quindi il file più grezzo possibile la modalità log di cui vi parlavo ma ho provato un pochettino anche la modalità dolby vision ed è super piacevole molto molto migliore del lavorare sul medesimo sensore senza il dolby vision attivo è nel complesso uno smartphone consigliato per i video allora il discorso è lo stesso che ho fatto gli altri anni sui top di gamma che ho utilizzato per i cortometraggi anche se qui non ci ho girato un cortometraggio sul set il concetto secondo me non si discosta di molto se si è utenti consapevoli l'hardware c'è l'hardware in termini di sensori di stabilizzazione c'è bisogna studiarselo e bisogna agire da utenti consapevoli capire come lavora al meglio capire a quali ISO lavora meglio capire in quali modalità lavora meglio come risponde a certi fps tutta una serie di cose per un utilizzo più generico no non è uno smartphone che mi sento di mettere in prima linea quindi per concludere vale la pena acquistarlo non vale la pena acquistarlo è una rivoluzione non è una rivoluzione costa tanto costa tanto si costa tantissimo cosa devo fare ragazzi il video l'avete visto riguardatevelo cercate guardate i risultati finali lo ripeto il punto di svolta c'è sul sensore principale e su come lavora questo teleobiettivo certi risultati li potete ottenere solo con lui e su questo ci metto la firma lui è uno smartphone sicuramente pensato per una nicchia ha tutto quello che deve avere un top di gamma fatto e finito ma poi quel più quella scintilla che ha si è evidente anche per l'utente generico acquistarlo significa divertirsi qualsiasi sia la nostra tipologia di livello rispetto a il mondo della fotografia questa è la domanda che bisognerebbe porsi un po' paradossalmente non tanto se lo smartphone è alla nostra altezza ma se noi siamo all'altezza di questo smartphone e di queste chicche che solo lui può proporre per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo